Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi parliamo di FIMI, più precisamente del FIMI X8 SE, la versione nuova che sta per uscire, o meglio che FIMI ha già in prenotazione su Banggood, la versione 2020 che è andata a migliorare e a correggere tutti i difetti che aveva la versione 2019 e secondo me questa è stata una grande genialata da parte di FIMI che ha mantenuto la parte buona della versione 2019 e le cose buone erano tante, ma è andato a correggere quei particolari o meglio quei difetti che aveva la versione appunto 2019, ma mantenendo quello che è appunto l'estetica, la struttura del drone, quindi andando a risparmiare sicuramente su quello che sarebbe stata una nuova riprogettazione di un drone completamente nuovo, ma andando veramente a modificare quei dettagli che non lo rendevano perfetto, era perfetto per il prezzo che aveva, perché comunque per le sue caratteristiche era ad un prezzo veramente eccezionale, non ve le sto elencare perché ormai le sapete tutti, però aveva comunque dei difetti. In questa versione 2020 FIMI riesce a mantenere un prezzo bassissimo, infatti questa versione 2020 è in prenotazione su Banggood, con un po' sconto che vi lascio in descrizione, viene a costare intorno ai 317 euro e la cosa ancora più interessante è che è spedito addirittura da un magazzino europeo, cioè il magazzino spagnolo, quindi il drone che andremo ad acquistare partirà da un magazzino europeo. Quindi mantenendo quello che era la struttura del drone vecchia e andando solo a correggere e sostituire i particolari che secondo FIMI e anche secondo noi che l'abbiamo avuta la versione 2019 non erano diciamo di grande livello, sicuramente adesso avremo un drone quasi perfetto. Allora, le cose che FIMI è andata a migliorare, allora adesso andiamo a vedere da vicino le cose che FIMI è andata a sostituire o migliorare. Una delle cose principali ed era sicuramente uno dei difetti che aveva la versione 2019 è la VPU, cioè i sensori che sono sotto la pancia del drone che gli permettono al drone di stare in hovering e di mantenere la posizione anche quando ci sono pochi satelliti o vogliamo addirittura senza satelliti. Quindi tante versioni della versione 2019 avevano problemi, questo probabilmente tutto al fatto che non tutti montavano lo stesso tipo di VPU, lo stesso tipo appunto di hardware. Nella versione 2020 FIMI è andata a sostituire appunto tutta questa componentistica dando la possibilità alla versione 2020 di stare in hovering anche senza satelliti ad un'altezza di 30 metri. Quindi i sensori sotto la pancia del drone saranno in grado di mantenere il drone stabile anche se il drone sarà ad un'altezza di 30 metri, quindi ragazzi tanta tanta roba perché comunque se funziona davvero in questa maniera è un passo in avanti verso la versione 2019 che appunto peccava dal punto di vista dei sensori di posizionamento. Poi un passo in avanti è stato fatto anche dal range, sì perché se passati in modalità FCC sto parlando, FIMI è passata da 5 km di range ad 8 km di range, questo in FCC. però sperando che comunque la proporzione rimanga anche nella modalità ICE, questo miglioramento di 5 dB nella trasmissione ha portato appunto a questo aumento di range che secondo me è tantissimo perché passare da 5 a 8 è veramente veramente tanta e quindi se la proporzione rimane anche nella modalità ICE, quindi se dovessimo passare per assurdo da un chilometro e mezzo 2 a 3 chilometri sicuramente il passo in avanti è stato sicuramente elevato. Un altro passo in avanti è stato dato alla telecamera che adesso è in grado di registrare in HDR anche i filmati, quindi anche i filmati possono essere fatti con l'opzione HDR e in più è stato introdotto il codec H.265, sì perché come sapete tutti i droni, tutte le fotocamere, mai qualsiasi dispositivo in grado di registrare video registra con i codec H.264, però è già un po' di tempo che è uscita la versione H.265 che i droni di alto livello già hanno introdotto come opzione ovviamente perché comunque possiamo andare a scegliere attraverso l'applicazione se selezionare H.264 o H.265, questo perché? Perché l'H.265 ci dà un miglioramento nella risoluzione e nella qualità video occupando meno spazio. Però il problema dell'H.265 è che tanti software, soprattutto quelli economici, parlo di software di gestione di editing video, soprattutto quelli economici fanno ancora fatica o addirittura ancora non lo supportano, quindi chi ha un software nel proprio PC che non supporta l'H.265 sceglierà l'opzione H.264 nell'app e continuerà a registrare come è registrato fino adesso. Un altro passo in avanti è stato fatto dalla durata dei minuti della batteria, infatti siamo passati dai 33 minuti della versione 2019 ai 35 minuti della versione 2020. Questo ovviamente dato dall'ottimizzazione dell'elettronica e anche dal peso che è un po' diminuito. Poi un altro passo in avanti è stato fatto dal sensore, è stato sostituito il sensore della fotocamera, quindi ci dovrebbe essere un miglioramento nella qualità anche da quel punto di vista. Poi come ultima cosa FIMI ha introdotto un'assicurazione che si chiama FIMI Premium Care. Cos'ha questa assicurazione? Ci permetterà all'interno di un anno di sostituire un drone in caso di incidente causato da noi, intendo, qualsiasi cosa, qualsiasi problema ci permetterà di sostituire il drone pagando 40 euro, quindi con 40 euro, anche se il drone l'abbiamo schiantato noi, l'abbiamo distrutto noi, tutto quello che volete, quindi causa nostra. Quindi quando il danno è causato da noi lo potremo andare a sostituire pagando 40 euro, quindi con 40 euro avremo un drone completamente nuovo. Questo lo potremmo fare due volte all'interno dello stesso anno. Quindi una cosa aggiuntiva da parte di FIMI che secondo me diventa molto interessante, soprattutto poi se pensiamo ai primi due o tre mesi del FIMI X8 2019. Quindi ragazzi, ricapitolando, la versione 2020 è prenotabile attualmente su Banggood, vi lascio il link e coupon in descrizione per avere uno sconto che lo porta a 317 euro circa, è spedito da magazzino europeo. Le modifiche sono, allora, durata della batteria che ha aumentato i due minuti, di più completamente nuova che lo rende stabile anche a 30 metri senza avere la connessione dei satelliti, il lato video che è migliorato, adesso è in grado di avere l'HDR anche sui video e la capacità di registrare con gli ultimi codec H.265 ed il range che è passato in modalità FCC da 5 km ad 8 km e in più l'introduzione da questa assicurazione che sicuramente diventa molto utile e vale la pena sicuramente attivare. Quindi ragazzi, queste sono tutte le novità portate da FIMI che secondo me ha fatto una scelta molto intelligente nel mantenere il drone precedente, quindi risparmiando soldi dal punto di vista della costruzione di un nuovo drone, andando a sostituire solo quelli che erano i punti deboli della versione 2019, quindi riuscendo a mantenere un prezzo bassissimo su un drone che diventa quasi un drone nuovo perché è andato a migliorare davvero tanto le parti deboli, però mantenendo un prezzo davvero davvero super competitivo, un drone che davvero diventerà il Best Buy 2020. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato le novità del FIMI X8 SE 2020 vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e se vi va, ovviamente ragazzi, iscriviti a questo canale YouTube e non perdevi neanche un video, un volo, recensione, un test, un tutorial, una novità, ciao!